E' una sconfita che però a volte può cadere qualche grande squadra, l'impolo Marpinelle lungo per Melissano che prende tempo e trova anche il servizio tra Armenakass, deve girare Armenakass, bella palla per Joulou che finisce a terra, calcio di rigore! Il pallone è morbido per Melissano, poi in giù! I like the wave, 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 I like the il Kristen Hobin felt silent turnin left turnin right thought he lookin at me while i was lookin at them they are there on the dance floor now they got me up a little feeling like a man for especially the big good big good he loved you no discriminates on this world CTV hands off the chips let me steady Panos è più veloce è un Carmen Agas è da tenuto l'arbitro lascia a giocare Julu give them something to remember hell out timber when you fall through the south they could be brothers so yeah but let me listen to the story you tell And we can make move like a person in jail On a low-quote All I do, man 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 Wow Parfinella, 3 a 0 Udinese, la rete di Gianluca Parfinella E quindi l'Udinese mette la pietra tombale su questa partita Trosti Arminacca, c'è a funzione Questo schema che hanno accettato tante volte nel primo tempo E quindi l'Udinese, la rete di Gianluca 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 E quindi l'Udinese